Sì, non c'è nessuno. non posso riferire da me ma questo l'ho fatta io dai infatti guarda subito il dmr proviamo il dmr visto che oggi ho usato quando l'ho usato lo usavo l'altra l'arma normale no no l'assalto è normale andiamo a morire subito ma si andiamo a morire subito oddio è immunifico quella cosa easy ah beh lo avete indetto e ci ho detto e fidi ti avevo detto e fidi il round lo facciamo noi lo spotterino ma per caso succedo l'arma pure io non è tipo i tarilli nel loro habitat forse già me l'ho visto si vabbè buono è qua a sinistra vabbè vabbè ma che ho uspettato di affarbo io vabbè ma dietro in dietro e facciamo così via questo personaggio c'è uno va uuuu tonno 3 io ho fatto ma no tonno 3 io ho fatto e poi tu io ho fatto 3 4 4 grazie un po' di grazie ma tanto quando non hai l'abilità si dice delle cose tipo ehi non posso fare niente non ho niente no non posso fare l'abilità ah 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 ci sono verso qua ehi che cos'è oggi la pizza ha izzo il beneficio eh la pizza ha izzo i benefici vado 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 e' ingresso devo l'agricare vabbè semmai eserciti ma dove l'ho missata dai via la ferma l'ho missata quella vista oddio ingastrato acqua ma ha fatto il fattore giusto io 15 a 5 mi sto emozionando oggi è uscito un buono forse un buonare di una bella registrazione vai spot sono un altro non l'ho visto no mia 27 che totale rubiamo questi ma se questo è in un limbo cioè non posso più uscire mi rimango ingastrato qua ok no thanks C'è un G4 Eh Miglia ci stavo andando sopra con i piazzi Eh Beh, togliamo Portello Esplode A tre mazzette Ok Eeeh Wada Ano non è che danno Qua c'è No ma poi Sino Disconnect Spera poi Disconnect